È dalla legge 257 del 1992 che in Italia è illegale estrarre, usare, lavorare e commercializzare amianto perché cancerogeno. In realtà basta entrare in un qualsiasi casalinghi per trovare sugli scaffali alcuni termos come questo, che contengono il pericolosissimo materiale. Roma 1 ha acquistato uno di questi prodotti e l'ha portato al centro regionale amianto di Civita Castellana, che ne ha certificato la natura. Il referto del laboratorio igiene industriale non lascia dubbi. Nelle pasticche di cartone pressato c'è presenza di fibre e amianto. Altri termos come questo sarebbero all'esame dei tecnici. Il nucleo antisofisticazioni e sanità dell'arma dei carabinieri starebbe svolgendo un'inchiesta per scoprire la diffusione sul territorio di questi prodotti. Per quanto riguarda i contenitori termici, l'amianto detto anche asbesto si trova all'interno della scocca di plastica del termos, nell'intercapedine tra le due pareti di vetro. È nel caso di rottura della parte interna e delle pasticche che si manifesta la pericolosità dell'asbesto. Qualunque tipo di amianto infatti risulta cancerogeno per l'uomo. Per queste pasticche il rischio è nullo a meno che non si vada a rompere il termos, a frantumare anche la pasticca che comunque anche in caso di rottura del termos rimane compatta perché è abbastanza compatta. E ovviamente se si dovesse frantumare la pasticca e respirarne le fibre questo vorrebbe costituire pericolo. L'amianto è costituito da fibre sottili ma molto addensate che lo rendono allo stesso tempo resistente e flessibile. Nel termos queste fibre sono state utilizzate come cuscinetti e distanziatori per sostenere in modo elastico la parete esterna di vetro soffiato, anche perché reggono sia all'usura meccanica che termica sopportando anche temperature di 500 gradi centigradi. Sono anni che si sta procedendo ad una bonifica di tutti i prodotti e strutture contenenti amianto. Per non creare allarmismo è bene sapere infatti che, ove ci fosse, l'amianto non è radioattivo e quindi non può attraversare il contenitore. Il pericolo deriva dall'inalazione delle fibre che si trovano nell'aria. La cosa migliore da fare nel caso si sospetti di possedere un termos contenente pasticche ed amianto è di non gettarlo nel cassonetto né di romperlo. Sicuramente non dovrebbe romperlo o gettarlo nel cassonetto o nel cestino dei rifiuti. Credo che questo sia un problema che verrà affrontato anche a livello di Ministero della Salute per dare un'indicazione generale e attualmente non sono state date ancora indicazioni perché probabilmente deve essere valutata l'entità della diffusione di questi termos, perché non tutti hanno questa situazione. La legge 257 del 27 marzo 1992 ha finalmente sancito la messa al bando della fibra assassina. In questo modo si pensava di arginare i rischi d'amianto alle opere di bonifica delle zone contaminate, almeno fino a quando non abbiamo acquistato questo termos. Da Cività Castellana per Roma 1, Maddalena Carlino.